Buongiorno bambini! Prendete la penna rossa, scrivete dettato. Matita Il gatto era bello e giocava a pallone, virgola, nonostante si chiamava lettera maiuscola, non giocare a pallone, punto, taccavo lettera maiuscola e la mamma gli disse due punti, non si fa, punto, e quindi non giocare a pallone. Si mise a piangere e andò con l'accento sulla O in punizione per otto secoli, punto, e lui disse due punti, ma che pulizione è con l'accento questa? Dopo questa mettete il punto interrogativo, uffa, con due f e la virgola, non, è con l'accento giusto, punto esclamativo, e la mamma disse due punti, trattino, allora due punti da capo, trattino, allora sta in punizione per altri cento secoli, punto, da capo, lettera grande, trattino, con la lettera grande, mamma, virgola, sono passati già con la cento otto secoli, tre puntini, o mille, o mille e due anni, punto. Ok, ora leggo tutto dal capo, vedete se avete scritto bene. Il gatto era bello e giocava a pallone, nonostante si chiamava non giocare a pallone, e la mamma gli disse, non si fa, e quindi non giocare a pallone si mise a piangere, andò in punizione per otto secoli, e lui disse, ma che punizione è questa? Uffa, non è giusto. La mamma disse, allora sta in punizione per altri cento secoli. Mamma, sono passati già otto secoli, o mille e due anni. Bye!